benvenuti al sesto episodio di suoni in una scatola avete già preso i vostri auricolari perché in questo sesto episodio di suoni in una scatola ci prepariamo a perlustrare un nuovo universo di racconti io sono il vostro fidato navigatore marco di battista e vi accompagnerò come al solito in questa nuova avventura ma prima di salpare un piccolo promemoria attivate le notifiche per non perdere neanche un minuto di questa fantastica esperienza e se non l'avete ancora fatto unitevi al nostro gruppo facebook per immergervi nella community e scoprire contenuti esclusivi siete pronti a salpare allora lasciate le cinture perché si parte nel periodo tormentato della grande depressione negli anni trenta woody gadry migrò verso la california stabilendosi a los angeles qui si unì a un circolo di artisti scrittori e attivisti che come lui lottavano contro le disparità e lo sfruttamento dei lavoratori nel 1939 gadry aderì al partito comunista degli stati uniti d'america intraprendendo un percorso di militanza che lo portò a calcare con perseveranza i palchi di eventi sindacali e di iniziative a sostegno dei lavoratori l'immersione nella realtà californiana e il confronto con artisti attivisti progressisti modellarono la sua concezione del mondo alimentando un'intransigente spinta verso la giustizia sociale che attraversò la sua musica e la sua poetica il suo soggiorno californiano aprì le porte a nuove e significative relazioni con esponenti di spicco dell'ambiente artistico e politico locale tra questi il giornalista e romanziere john steinbeck il sindacalista henry bergs e l'attivista comunista will gear uomini che ebbero un'influenza profonda sulla sua esistenza e sulla sua produzione musicale negli anni quaranta dopo il suo addio alla california gadry si stabilì a new york city dove divenne un pilastro della scena folk del greenwich village famoso per il suo fervore artistico e culturale il soborgo attirava come una calamità musicisti e scrittori artisti progressisti dell'epoca tra cui lo stesso woody gadry qui si immerse nell'ambiente folk stringendo amicizie con pittsiger led belli e sisco houston salendo sui palchi di locali e club fu in questo periodo che conobbe marjorie mazia con la quale convolò a nozze e mise al mondo quattro figli tra cui l'illustre cantautore arlo gadry wody gadry dopo il suo addio al village viaggiò senza sosta spostandosi da una città all'altra degli stati uniti come una specie di nomade nonostante la sua salute precaria minata dalla malattia di anti un'inesorabile patologia neurodegenerativa ereditaria la sua passione per la musica non vacillò mai continuò infatti a comporre canzoni ad incidere musica e a salire sui palchi la california lo accolse nuovamente riportandolo alle sue radici in questo luogo ritrovò la compagnia di artisti e attivisti con cui aveva condiviso esperienze in passato a metà degli anni 50 l'avanzare della malattia debilitò il suo corpo rendendogli impossibile esibirsi e suonare la chitarra come un tempo era solito fare gadry trascorse gli ultimi anni della sua vita in vari ospedali e istituti di cura affrontando a viso aperto la sua malattia murì il 3 ottobre del 1967 lasciando un'eredità importante nella musica folk e nella lotta per i diritti civili il modo in cui udi gadry suonare la chitarra era caratterizzato da uno stile semplice e diretto utilizzava generalmente accordi di base gergalmente detti aperti spesso sol la mi o do al di là dell'accordatura standard la chitarra offre diverse varianti tra cui l'accordatura aperta in questa particolare configurazione le corde vengono accordate in modo tale da generare un accordo completo anche senza premerle sui tasti suonando le corde a vuoto infatti si ottiene un accordo definito una delle accordature aperte maggiormente utilizzate è quella in la open a tuning si chiama essa consiste nell'accordare le corde come segue partendo da una nota più grave mi la mi la do diesis mi suonando tutte le corde contemporaneamente si produce un accordo di la maggiore questa accordatura è frequentemente adoperata con la tecnica dello slide che prevede l'impiego di una bottiglia o di un tubo metallico da far scivolare sulle corde Gatry era un chitarrista molto versatile capace di eccellere sia nel suonare con il plettro che nella tecnica del fingerpicking conosciuta anche come fingerstyle quest'ultima tecnica consiste nel pizzicare le corde singolarmente con le dita della mano destra poste sopra la buca della chitarra grazie a questo metodo Gatry riusciva a creare melodie armonie aggrovigliate dimostrando una buona padronanza dello strumento pur avvalendosi di queste tecniche Gatry non brillava certo per virtuosismo chitarristico nel senso classico del termine la sua priorità era trasmettere i suoi messaggi non la perfezione tecnica il suo stile chitarristico rispecchiava la sua indole schietta e il suo credo nella musica come strumento di cambiamento sociale di riscatto Gatry impiegava inoltre l'armonica come complemento alla voce e alla chitarra numerose opere di Udi Gatry sono state rilevanti sia per la sua carriera che per il panorama più ampio dell'attivismo sociale e della musica folk stessa tra queste si ricorda sicuramente This Land is Your Land la quale emerge come un vero e proprio capolavoro il simbolo non ufficiale degli Stati Uniti è la canzone più conosciuta del cantautore questo pezzo datato 1940 ha una melodia che inneggia la bellezza mozzafiato dei paesaggi americani e sostiene l'uguaglianza e la ripartizione equa delle ricchezze trasformatasi in un simbolo di unità e di lotte per i diritti civili la canzone conserva tuttora un'intensa carica emotiva la prima quartina cita questa terra è la tua terra questa terra è la mia terra dalla California all'isola di New York dalle foreste di Sequoie alle acque del Golfo questa terra è stata fatta per te e per me ambientato negli anni bui della grande depressione il brano Pastures of Plenty dipinge un quadro toccante delle difficoltà e delle aspirazioni dei lavoratori migranti e dei contadini catturando l'essenza di un'epoca segnata da disuguaglianze e soprattutto sfruttamento lavorativo la canzone di Porti ispirata dal tragico volo precipitato al Los Gatos dove 32 braccianti messicani persero la vita questo canto del 1948 si erge come un grido contro la discriminazione e l'ingiustizia subite dai lavoratori migranti un lamento accorato che denuncia la spietata realtà dell'epoca dove vite innocenti vennero spezzate dai soprusi ricevuti composta nel 1937 Do Re Mi dipinge un affresco commovente delle prove affrontate dai migranti durante la grande depressione la canzone narra le loro storie con grande sincerità e onestà mettendo in luce la tenacia e la forza d'animo di individui comuni che nonostante le avversità combattevano per costruire un futuro più roseo per sé e per le loro famiglie diventa così un monito sull'importanza della solidarietà e della giustizia sociale nel contrastare le disuguaglianze e nel superare le difficoltà socio-economiche del tempo La figura di Woody Gatry, come peraltro quella di molti altri artisti, è stata oggetto di critiche e controversie Tra le accuse più ricorrenti c'è quella di incoerenza politica Nonostante la sua immagine di attivista di sinistra Gatry è stato accusato di una certa ambiguità nelle sue posizioni politiche Alcuni critici osservarono che il suo atteggiamento ambivalente nei confronti del governo e dei movimenti politici lo rendevano difficile da etichettare come un attivista radicale o di sinistra Inoltre Gatry è stato criticato per l'utilizzo di stereotipi culturali considerati insensibili o addirittura offensivi Ad esempio, alcune sue liriche presentano immagini stereotipate delle popolazioni indigene, americane o di altre comunità etniche Una ulteriore critica mossa alla sua musica riguardava la scarsa presenza femminile nei suoi testi Spesso le donne erano relegate a ruoli stereotipati o a puri oggetti di desiderio romantico private di fatto di forza e autonomia Altro punto di contestazione era l'accusa di appropriazione culturale Alcuni critici lo accusavano di aver preso e reinterpretato in modo superficiale canzoni popolari e tradizioni musicali di altre culture Sottraendone l'autenticità e il significato originario La fama di Gatry derivava anche dalla sua abilità nel rielaborare e adattare brani folk già noti Pratica che scatenò un acceso di battito sul rispetto per le radici e le tradizioni musicali Non mancarono critiche anche per la sua tecnica chitarristica definita da alcuni come semplice e carente Nonostante la sua voce ruvida e il suo stile strumentale essenziale avessero conquistato gran parte del pubblico Alcuni detrattori lo accusarono di non possedere le necessarie doti vocali e strumentali per eccellere Sebbene la sua vita sia stata segnata da ostacoli e sofferenze L'opera di Woody Gatry risplende ancora oggi per impegno sociale e autenticità musicale Le sue canzoni colme di compassione e di messaggi di giustizia sociale hanno dato voce agli emarginati, agli ultimi della classe Gatry ha decisamente inciso sulla musica folk e così facendo ha dimostrato il potere trasformativo della musica come strumento per trasmettere idee e promuovere un mondo più equo Nel corso degli anni sessanta il movimento del folk revival attraversò una trasformazione profonda che ne stravolse sia la popolarità che i contenuti In quel decennio il folk raggiunse il suo apice era diventato un elemento imprescindibile nel panorama musicale e culturale dell'epoca La sua ascesa si intrecciò inseparabilmente con le lotte per i diritti civili il pacifismo e le proteste contro la guerra del Vietnam Le marce per i diritti civili come quella di Washington del 1963 furono manifestazioni di massa che reclamavano l'uguaglianza razziale e l'attuazione di leggi anti-discriminazione Il culmine della marcia su Washington fu il celebre discorso di Martin Luther King in cui eteggiò l'immortale frase I have a dream Nel 1955 Rosa Parks, una donna afroamericana, si rifiutò di cedere il posto da lei occupato su un autobus a un passeggero bianco fatto che scatenò l'inizio del boicottaggio dei bus di Montgomery Questa coraggiosa iniziativa avviò una tenace battaglia che portò alla desegregazione dei mezzi pubblici Un altro traguardo fu la legge sui diritti civili del 1964 che in pratica bandiva la discriminazione basata su razza, colore della pelle, sesso, religione e tutto questo venne applicato in diversi settori nell'occupazione, nei servizi e nelle strutture pubbliche Nel 1965 un'ondata di protesta contro la segregazione razziale si verificò nel sud degli Stati Uniti guidati sempre da Martin Luther King e John Lewis migliaia di attivisti si mossero da Selma verso Montgomery in Alabama per reclamare il diritto di voto per gli afroamericani La loro marcia pacifica, seppur rosteggiata da una brutale repressione catturò l'attenzione del mondo e spinse il presidente Lyndon B. Johnson ad agire Poco dopo il culmine della protesta, Johnson presentò una proposta legislativa che avrebbe portato all'approvazione del Voting Rights Act del 1965 Questa proposta pose fine alle pratiche discriminatorie che ostacolavano il voto degli afroamericani e istituì una supervisione federale delle elezioni nelle aree con un passato razzista In quel decennio il movimento pacifista si scagliò contro la guerra del Vietnam organizzando una fitta rete di proteste, manifestazioni, si team La resistenza non violenta trovò sfogo nella marcia sul Pentagono del 1967 e con il Moratorium Day del 1969 Eventi che radunarono centinaia di migliaia di persone in un coro unanime contro il conflitto I militanti, convinti che la diplomazia e la negoziazione rappresentassero l'unica via d'uscita accettabile sostenevano con forza l'insostenibilità della guerra I cantautori folk divennero portavoci di una generazione che attraverso la musica cercava di diffondere messaggi di pace, uguaglianza e trasformazione Il movimento vide anche una scesa esponenziale della presenza femminile nella scena cantautorale L'influenza del folk revival si estese ben oltre la musica entrando nelle arti visive, nella letteratura e nella moda Aveva ormai creato un'immagine idealizzata del passato romanticizzata e nostalgica, riesumando la vita rurale e la bellezza incontaminata della natura I maestri dell'arte figurativa, animati dal desiderio di cogliere l'essenza della vita vissuta si dedicarono alla rappresentazione della quotidianità, della cultura popolare e delle esperienze del popolo con dipinti, sculture, fotografie e altre forme espressive diedero voce alle storie e alle emozioni della gente comune Per farlo sposarono le tecniche e i saperi artigianali tramandati di generazione in generazione e così esaltarono la bellezza intrinseca e l'autenticità delle forme semplici Il loro interesse per la tradizione raggiunse anche le copertine degli album nelle quali le illustrazioni, le grafiche e le fotografie comunicavano i principi ispiratori del movimento folk Immersa nelle tradizioni popolari, l'arte figurativa del movimento trovò ispirazione in diverse espressioni artigianali senza dubbio dalla sapiente tecnica del quilting e dalla scultura e l'intaglio del legno Fra coloro che contribuirono a definire l'estetica e l'ideologia del movimento ricordiamo senza meno Eric Von Schmidt, pittore e illustratore americano, artefice di numerose copertine di album storici di Bob Dylan e John Bias e ricordiamo anche Milton Glaser, rinomato designer, grafico americano, autore di diverse copertine di album folk degli anni 60 e creatore del celebre logo I Love New York Il fotografo Barry Feinstein immortalò con la sua macchina fotografica figure leggendarie della musica folk degli anni 60 come Bob Dylan e Pete Seeger fissando per sempre i loro volti e le loro emozioni Nel folk revival, poesie e canzoni si fusero in un connubio indissolubile Bob Dylan, Johnny Mitchell e Leonard Cohen, poeti a tutti gli effetti imbevero le loro canzoni di una profonda sensibilità poetica Allo stesso tempo alcuni poeti della Beat Generation ispirati dal credo di questo movimento fiorito negli anni 50 che continuò nel decennio successivo si misurarono addirittura con la musica e le esibizioni del vivo Dunque, tra la letteratura della Beat Generation e il folk revival degli anni 60 si sviluppò un prolifico scambio interdisciplinare Kerouac, Ginsberg e Ferlinghetti, poeti e cantautori si suggestionarono a vicenda partecipando a letture pubbliche, concerti e festival In questo clima di agitazione culturale la musica folk divenne portavoce delle stesse tematiche di protesta della stessa ricerca di autonomia e della stessa disillusione presenti nelle opere letterarie dell'epoca Da quel miscuglio di creatività nasceva un'atmosfera feconda dove differenti espressioni artistiche si fondevano in un'unica armonia L'estetica degli artisti del folk revival con i loro abiti bohemian e capelli fluenti divenne il simbolo di un nuovo modo di vivere e di un nuovo modo di concepire il mondo Nonostante il suo vertice sia stato raggiunto negli anni 60 l'eredità del folk revival continua a penetrare la musica e la cultura odierne Il folk non ha perso la sua forza espressiva e viene continuamente rivisitato da nuove generazioni di artisti La sua genuinità, il suo legame con le tradizioni e la sua capacità di raccontare storie sia intime che universali ne fanno un genere ancora attuale apprezzato da un vasto pubblico e vi garantisco non solo tra i nostalgici E così cari ascoltatori siamo arrivati alla fine di questo sesto episodio Come abbiamo visto il folk revival non è stato solo un semplice ritorno al passato ma un movimento dinamico e creativo che ha saputo reinterpretare la tradizione in una chiave molto moderna I musicisti del folk revival hanno dato nuova vita a vecchie canzoni ne hanno composte di nuove e hanno mescolato il folk con altri generi musicali Un nome emblematico di questo movimento è sicuramente Bob Dylan a cui dedicheremo il prossimo episodio di Suoni in una scatola Ci interesseremo alla sua straordinaria carriera, alle sue canzoni e al suo ruolo importante nella storia del folk e della musica in generale Grazie per avermi ascoltato e ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti